Arrestato dagli agenti della polizia di Sassari un 43enne sassarese per furto aggravato, possesso di arnesi da scasso ed evasione. L'uomo è stato fermato questa notte da una sezione delle volanti nella zona di San Giuseppe, in pieno centro cittadino, mentre era intento a rivistare all'interno di alcune auto parcheggiate. Gli operatori sono arrivati sul posto in seguito a una segnalazione e sono subito riusciti a individuare il topo d'auto. Alla vista degli agenti il pregiudicato, con precedenti per furto ed evasione, si è dato alla fuga, ma è stato subito rintracciato poco dopo e arrestato. Lo scassinatore professionista aveva con sé diversi oggetti utili per forzare e danneggiare le autovetture, una tenaglia, un punteruolo e una pinza, inoltre all'interno di una sacca il provento della fruttuosa attività notturna. Dopo le formalità di rito, l'uomo, che già nella 2 di ottobre era stato arrestato e sottoposto a regime degli arresti domiciliari, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della questura e, nell'odierna mattinata, a seguito dell'udienza di convalida, è stato accompagnato presso il carcere di Sassari Bancali, così come disposto dall'autorità giudiziaria.